Allora, io sono qua, io ero qua, io mi muovo qua, io mi muovo qua, costruisco questo, questo non si può muovere di qua perché io sono la dea dell'amore, se si stacca da me non può, abbiamo detto che è Lorenzo piccolo, quindi lui può andare qua, e poi gli altri giocatori, io no, era qui, si muoveva qua, ho sbagliato, io mi, no, si muoveva, si muoveva, si muoveva qui, si muoveva qui, costruiva questo, poi l'altro faceva così, se ne costruiva va uno suo, ma come fa a costruire, scusa, muove e costruisco, muove, era qua, muovo, costruisco, ma con il dardi anche lì, no, poi io mi muovo e costruisco, poi questo che si muove, costruisce, poi io mi muove qui, io metto questo, come metti quello, perché metti quello? se io salgo e arrivo qua, perché devi fare tipo così, così devi fare, e tu dà il piano piccolo, vai così, 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 però se lui mi mette la cupola, se lui mette la cupola non posso andare, perché ci vuole, e quindi devo costruire una nuova torre, ho capito, e poi gli altri giocatori, vince chi? vince chi sale qua, senza cupola, chi sceglie il colore di questi? ti piace Santorini? sì, tanto o poco? sì, tanto, 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 grazie! no no Grazie per la visione!